Tutto pronto per il duello rosa tra le due renziane, Michela Fanelli e Laura Venitelli. In palio la conquista del vertice del PD molisano e la maggioranza dei 60 componenti dell'Assemblea regionale. Si voterà domani dalle 8 alle 20 nei 95 seggi distribuiti su tutto il territorio regionale e precisamente 59 in provincia di Campobasso e 36 in quella di Isernia. Come ha fatto sapere il coordinatore del comitato Antonio Battista, il quale ha anche ricordato che sono primarie aperte a tutti, ma i non iscritti per votare dovranno versare 2 euro e sottoscrivere un documento di condivisione dei valori ideali e politici del PD. Intanto le due aspiranti segretarie, che si sono tirate per i capelli fino alla fine, hanno lanciato il loro ultimo appello al voto. Pacati i toni di Michela Fanelli, sostenuta a spada tratta dal presidente della regione Paolo Frattura e dall'assessore Vittorino Facciolla. Se vi fa piacere rifondare un partito democratico in questa regione, totalmente in discontinuità con i metodi passati, che sappia ascoltare il territorio, che rimetta dentro i valori della sinistra storica, che sappia anche connettersi col futuro, senza steccati, senza ideologie della menzogna oppure della polemica, come dall'altra parte in questa campagna elettorale è stata fatta. Se volete quindi un partito democratico dei contenuti e della proposta, del rinnovamento e del radicamento territoriale, votate per la proposta che vede me a servizio Fanelli di questa idea di cambiamento. Un PD nei metodi diverso, un PD nelle proposte più capace. Frizzante e pungente invece l'appello di Laura Venitelli, sostenuta dal segretario uscente Danilo Leva, dal presidente del partito Roberto Ruta e da Michele Petraroia, Massimiliano Scarabbeo e Francesco Totaro. Votare per me per avere poi dal 17 di febbraio un partito democratico unito, che rappresenti lo strumento per una svolta in quella che è l'azione di governo, che in questi ultimi 11 mesi ha visto delle difficoltà. Ci sono delle forze importanti, economiche importanti di questa regione, che non vogliono che io vada a rivestire il ruolo di segretario di questo partito. Parlo anche di forze governative che sono arrivate addirittura a chiedere il voto a forze che non hanno a che fare col PD e con la sinistra. Mi riferisco alla richiesta di voto anche ai rappresentanti di Casa Pound. Questa cosa è un'offesa, un affronto ai molisani e agli uomini del centro-sinistra. Noi non abbiamo nulla a che fare con Casa Pound, noi non abbiamo nulla a che fare con Patricello. Il voto a me è un voto per conservare quelle che sono le radici del centro-sinistra e per conservare quello che è la volontà del PD di essere a fianco della gente, delle persone che hanno bisogno, a fianco di tutti coloro che stanno facendo la battaglia per la sanità pubblica, a fianco di tutti coloro che stanno facendo la battaglia per il recupero della centralità della politica molisana, del lavoro, dei diritti e dell'equità sociale.